Cavriglia sempre più social. L'amministrazione comunale da oggi esperimenta sugli strumenti informatici relazionari una vera e propria rassegna stampa relativa a tutti gli argomenti che riguardano nei media la città delle miniere. Lo spazio è attivo su Facebook e Twitter. Per gli utenti, followers dei social del comune di Cavriglia, un servizio che racconta la rassegna stampa del territorio comunale. Quotidianamente l'addetto stampa Andrea Calcinai racconterà tramite le pagine dei website che parlano di informazione locale e dei quotidiani locali quello che è avvenuto il giorno precedente nel territorio del comune. Quindi come i giornali raccontano il nostro territorio. Tutte le mattine una piccola rubrica di 1-2 minuti che permetterà tramite un piccolo video a tutti gli utenti di poter capire quello che è accaduto il giorno precedente tramite i principali organi di informazione. Sarà quindi possibile per tutti i cittadini avere un vero e proprio assunto degli eventi cavrigliesi grazie ai social networks.